Non so se mi hanno contestato, devo andare a verificare. Mi sono uscite tre di queste pistole inutili. La cosa più no sense mai vista in vita mia. Ok, server è ancora laga, quindi dobbiamo aspettare ad eventuali fight, purtroppo. Belli i player di queste Jedi Ranked. Guarda, 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 guarda. Imbarazzante. Se volete che vi dico questo game cosa facciamo, raga? E non me ne frega un capito, c'è questo stack. Non mi piace una barata in testa ora. Non ve lo faccio, ragazzi, lo facciamo. Ragazzi, ma mi è uscito scritto che sono morta dalla lama cinetica e questo qua era così distante. Com'è possibile, scusatemi? Ragazzi, non sono morta di Barret. Ragazzi, non sono morta di Barret. Ragazzi, non sono morta di Barret. No. Il rumore era della katana. Sono morta di katana, non mi ha barrettato. Scommessa? Sapete cosa ha fatto questo giocatore, eh? Lo volete sapere, eh? Questa mattina mi è uscito su TikTok un video di uno streamer abbastanza grande americano che faceva vedere come uccidere i player wifi da fino anche a 250 metri di katana con un bug. È letteralmente quello che ha fatto a me. Sono morta per un bug che stanno bug abusando le persone... No, non è un hacker. È un bug di cui le persone stanno abusando. Ti uccidono di katana letteralmente one-tappandoti. È un nuovo grigio che hanno messo che si è creato con la spada completamente casuale. Cioè, raga, io ve lo giuro, io non ce la faccio più. Guarda, voglio vedere lui che uccide altre persone in questo modo. No, no, io voglio vedere lui adesso che uccide un'altra persona in quel modo. Vabbè, sono la katana in mano. Fa la kill forse, ragazzi, eh? Forse fa la kill, preparatevi. Sì! Ha fatto la kill! Ha fatto la kill! Ha fatto la kill, avete visto? L'ha eliminato uno! Ma cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Cioè, questa è la gente che gioca su Fortnite. Ragazzi, ora fa la stessa cosa di nuovo su questo qui. Guarda! Ora si farà un'altra kill. Preparatevi. Preparatevi. E' fermo perché lui sta staccando la rete. Lui cosa fa? Stacca la rete. Spamma, tipo, a più non posso con la spada. Riattacca la rete fino a quando non è sicuro di aver fatto 200 danni al nemico. Riattacca la rete. E poi il player lo uccide. Ragazzi, ma cosa sto vedendo? Ma che cosa sto... Questo è peggio di... Guarda! Ne ha ucciso un altro! No, vabbè, ragazzi. E questa cosa è imbarazzante. Questa cosa è imbarazzante. Questa cosa è imbarazzante. Lo rifà. Ora gli arriva la kill. Pronti? Ora fa la kill. Tra qualche secondo fa la kill e si muove. Guardate. Tre. Due. Uno. Ma torna. Ma torna e farà la kill. Ecco! Ha fatto la kill. Ottava kill. Ottava kill. Preparatevi. Ora rifà la kill. Fidatevi di Martino. Ora fa la nonna kill. Da stando fermo con la spada. Pronti? Qualche secondo e arriva la kill. Preparatevi, eh. Fidatevi di Martina che ora la kill arriva, signori. Forse ne arrivano anche due. Doppia kill! L'ho collato! Ne ha fatte due! Ma cosa sto vedendo? Ma cosa sto vedendo? Ne ha fatte due perché stavano fightando. Come fa se non vede nessuno? Lui cosa fa? Cerca di capire dove stanno le persone boxate o dove stanno fightando. Dovrebbe essere tipo una roba che tipo tu stacchi tipo il tuo cavo Ethernet che ti toglie la rete, no? Però in teoria quando tu stacchi la rete il personaggio si muove comunque. Quindi tu vai dove vedi il nemico, anche se lo vedi magari fermo, cominci a accatenarlo in continuazione, riattacchi il cavo Ethernet e ti arriva la kill a distanza. Pronto? Ma gli arriva la kill. Lui sta fermo perché stacca il cavo. Lui stacca Internet. Ora gli arriva la kill. Preparatevi. Doppia kill mi sta fatto. Uno ne ha ucciso. Una kill. Undici kill. Ok, ha staccato il cavo Ethernet di nuovo. Perché ha visto dove è un altro nemico. E ora lo pushano. Cioè ora lui push e farà una kill se non anche due. Perché stanno fightando. Gli arriva la kill sicuro. Ecco. Internet è attaccato. Doppia kill ha fatto. Due kill ha fatto. Sto bot di madre. Sto bot di madre. Gente che rovina sto stacchi di gioco. Ecco. Se ora lo pusha lui muore però, eh. Deve fare veloce. Non ce la fa, amore. Bot di madre. Bot di madre. Il bello è che ho detto, oh se non muoio di Barrett. Non sono morta di Barrett. Sono morta per un bug di madre. Lui qui stacca il cavo Ethernet. Perché ha capito che di qua c'è qualcuno. Che poi non ho capito che mi ha fatto capire che lì ci fosse qualcuno. Però non facciamo domande. Però ha capito che c'era un player. Quel player ero io. Lui sta fermo. Stacca il cavo Ethernet. Va a cercare il player. In questo caso me. Che io ero in movimento. Ma lui comunque il player lo vede muover. Cioè lo vede fermo. Quindi io mi muovo realmente. Ma lui a me vede ferma. Perché non avendo la connessione internet non vede l'aggiornamento del personaggio. Prende il personaggio. Va vicino al personaggio. Lo mena più non posso con la katana. Riattacca il cavo. E io sono morta. Ora lui si tippa. Guardalo, guardalo. Tutto fiero di andare a prendere il mio loot. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Tutto fiero. Dice. Buono, oggi fatta una kill. Porca miseria. Sono troppo forte. Adesso arrivo in real. Incredibile. Guardalo, guardalo, guardalo. Ma sapete che mi viene il dubbio che questo qua abbia wallack? Però scusatemi. Perché lui, ora. Cioè come fa a sapere ogni volta che sono i giocatori? Perdonatemi. Cioè lui cliccia con la spada, ma ogni volta sa dove sono. E questo è il problema. Anzi, facciamo una cosa. Vediamo il pov degli altri. Fermi, fermi, fermi. No, questo sarà divertente. Siete pronti? Vediamo il pov degli altri. Dove è lo Yeti? Ken con la faccina da cosa. Pronti? Eccolo, eccolo, eccolo. Questo è quello che muore. Collegamento drone? Qua dovrebbe fare una double lui. Se non erro. Ora lui morirà per puro caso. Guarda. Ah, è stato ammazzato pure quello. Ah, quindi pure a distanza l'ho uccisi. Regà, l'ho uccisa a distanza. Non me ne ero accorta di questa cosa. Due in due parti differenti. Come si chiama quello? Picca? Due in due parti differenti. Ne ha fatti due insieme, ne ha fatti qua. Vedete? Ora muore lui e quell'altro. Va bene. Come giocano le persone in solo, ragazzi. Fermi in un box e non posso neanche fare le mura perché non mette i muri. Il sospettato è stato di fermo. Un giocatore che segnalato è stato sanzionato per il suo comportamento negativo. Va a far mocca a tu e quella grande stoccaci e si sorda. God. E' stato bannato. Ce l'abbiamo, signori. E' stato bannato. Oh, snorso. Ci godo come non mai. Minchia se ci godo. Minchia se ci godo, ragazzi. Quanto ci godo. Mamma mia. Guarda, ora mi sento meglio. Ora posso tornare nuovamente a essere tranquilla. Lo yeti, sì. Quello che citava con il wallh che usava il glitch della katana. Sai che carica di брassare. Faccio.